Italiano bello. Storie e letture in italiano. Gatto per un giorno. Quattro. Codi. Ho sentito il rumore della macchina e sono andato alla porta. C'era una cosa importante che dovevo dire a padroncina. Era successa una cosa terribile. Padroncina, Kira è scomparsa! Ho abbaiato. Lei aveva con sé quello strano gatto e l'ha appoggiato sul pavimento. Poi ha notato che Kira non era venuta alla porta a salutarla. Preoccupata ha iniziato a chiamarla, ma Kira non arrivava. Il gatto ha iniziato a miagolare disperatamente. Ma che cosa voleva quel gatto? Era proprio strano. Ma adesso non era importante. Avevo già cercato Kira dappertutto mentre padroncina era via. Per questo l'ho portata di sopra, in soffitta, dove l'odore di Kira era più forte. L'ho portata dove c'era una grossa scatola vuota. Lì finiva l'odore di Kira. Padroncina si è guardata un po' in giro e poi ha notato qualcosa nella scatola. Una lettera. Sembrava molto vecchia. Padroncina l'ha letta ad alta voce. 28 gennaio 1891 Cara Anna, ti mando il costume con l'incantesimo che mi hai chiesto. Ricorda di non indossarlo troppo a lungo, altrimenti comincerai a credere di essere davvero un gatto. L'acqua annulla l'incantesimo, quindi fai un bagno quando vuoi toglierlo. Non usarlo se piove. Usalo con prudenza. La tua amica Amelia. Padroncina ha fissato la lettera per un minuto buono, poi è tornata giù di corsa. Evidentemente Kira aveva trovato quel costume, l'aveva indossato e si era trasformata in un gatto. Quello strano gatto, quindi, era Kira? Era incredibile, ma questo spiegava perché quel gatto era in casa nostra. Per fortuna la lettera diceva anche come annullare l'incantesimo. Bastava un bagno. Il pensiero mi faceva ridere. Kira odiava fare il bagno. Ma il mio sorriso è svanito in fretta. Il gatto non era più in casa. Le nostre ricerche si sono concluse davanti alla finestra aperta del bagno.